Ti stai preparando per il concorso docenti e la preselezione ti terrorizza? Iscriviti al canale e clicca sulla campanella, così non perderai nessun video di questa serie. Oggi vi vorrei proporre la soluzione di questo quesito che mi è stato già posto più volte e che non ho ancora avuto occasione di risolvere. Inoltre l'avevo preparato per la diretta di lunedì scorso, ma non ho avuto tempo di arrivarci. Oggi pago tutti i miei debiti. In questo quiz abbiamo due implicazioni logiche. La prima dice Ogni volta che vado allo stadio mangio un panino. Questa la possiamo schematizzare scrivendo Se vado allo stadio, allora mangio un panino. La seconda frase dice Solo se sono andato a correre la mattina, prendo anche la birra. Qui bisogna fare attenzione al quel solo se, che, come vi ho già spiegato in un altro video, inverte l'implicazione. Quindi questa frase va schematizzata scrivendo Se prendo la birra, allora sono andato a correre. Ora vediamo le risposte proposte. La A dice Se non ho preso la birra è perché non ho corso la mattina. Quindi può essere schematizzata in Se non prendo la birra, allora non sono andato a correre. Questa frase non è certamente vera, perché negando l'ipotesi della seconda frase non posso dire nulla sulla tesi. La B dice Anche avendo corso la mattina, se vado allo stadio, posso non prendere la birra insieme al panino. Qui c'è la complicazione di quel posso, che di fatto ci dice che nella situazione descritta dalla frase potrei prendere la birra, ma anche no. Per non farla troppo complicata, la schematizzerei così. Se sono andato a correre e vado allo stadio, allora mangio un panino e posso non prendere la birra. E rimando la soluzione di quel posso. Ora la frase schematizzata contiene esattamente la prima frase di partenza, che quindi è sicuramente vera. Questo mi permette di togliere gli elementi Vado allo stadio e mangio un panino dalla mia frase schematizzata. Mi rimane Se sono andato a correre, allora posso non prendere la birra. Qui facciamo riferimento allora alla seconda frase di partenza. Stiamo fermando la tesi, quindi sull'ipotesi prendo la birra, non posso dire niente. Cioè potrei prendere la birra come potrei non prendere la birra, che è esattamente quanto c'è scritto nella nostra schematizzazione. Quindi questa seconda risposta è vera, dovrebbe essere la soluzione al quiz. Ma proseguiamo con le altre risposte. La C dice Se vado allo stadio e ho corso la mattina, allora prendo sicuramente un panino e la birra. Questa va schematizzata in Se vado allo stadio e sono andato a correre, allora mangio un panino e prendo la birra. La schematizzazione contiene la prima frase, quindi la posso togliere come prima. Rimane Se sono andato a correre, allora prendo la birra. Ma questa non è sicuramente vera, perché sarebbe un'inversione della seconda implicazione di partenza, quindi questa risposta non è accettabile. La D, infine, dice Se mangio un panino, è perché vado allo stadio. Schematizzo in Se mangio un panino, allora vado allo stadio. In questo caso abbiamo l'inversione della prima implicazione, che non è ammessa. Quindi la risposta corretta è la B. Vuoi che pubblichi altri esempi di quiz? Metti il like al video. E se vuoi altri quiz risolti e spiegati, vai alla mia pagina Patreon. Ciao!